Noi guardiamo a quello che succede dentro gli ingredienti quando li trasformiamo in cucina, cioè quando cuociamo ma anche quando montiamo una salsa o emulsioniamo qualche ingrediente. In questo senso che quelli che in cucina sono considerati ingredienti semplici, cioè il latte, la panna o anche una farina, da un punto di vista microscopico sono ingredienti molto complessi. In un olio ci sono tante molecole diverse fra di loro, nel latte ci sono strutture diverse. Se noi riusciamo a capire, a controllare come si trasformano questi componenti elementari riusciamo a dominare molto meglio i processi di cucina. Posso evidenziare che noi mangiamo con il naso e quella parte olfattiva, quel famoso profumo, quel buon profumo che quando noi entriamo in cucina lo evidenziamo, diventa fondamentale in un corso come questo. Qual è secondo lei dal punto di vista sensoriale l'ingrediente che rende riconoscibile la cucina italiana nel mondo? Quando noi aggiungiamo il basilico a un passato di pomodoro, tutto il mondo ce lo riconosce tipicamente italiano. Qual è invece l'ingrediente di questo master? L'ingrediente più importante per me è l'individuo, la persona, i ragazzi, c'è una certa coesione, è un passaggio importante della loro vita. Il master ha anche un grande significato perché ci sono dei grandi docenti, dei grandi esperti.